Stagione estiva salva sul Gran Sasso. La possibilità di poter riaprire la funivia dopo la nota inviata al comune dalla sfisa e comunicata nell'aula dal sindaco, fa tornare parzialmente il sereno. In queste settimane con la sfisa si è aperto un tavolo di lavoro e un confronto costruttivo che permetterà con le dovute prescrizioni di poter lavorare, salvare i lavoratori, ma soprattutto gli stagionali che sono così hanno l'occasione di proseguire la loro opera. Ora ci sono dei piccoli esami da fare, ma l'amministrazione è certa di poter riaprire al pubblico esercizio. La situazione non era così veramente critica. Bisogna fare un plauso ai tecnici sopra che fanno sempre le revisioni, in funivia sono sempre state fatte. E poi bisogna ringraziare il Ministero dei Trasporti, l'ansfisa, che ha aperto un tavolo in cui è un mese che c'è un dialogo fitto tra le parti, quindi tra i nostri dirigenti e tra il dottor Marturano. Devo dire che si è trovato una via di risoluzione e questo era il nostro vero obiettivo, quello di ridare una speranza al territorio, ridare il lavoro ai 23 dipendenti e soprattutto dare una speranza concreta e non a chiacchiere agli stagionali, perché solo funzionando la funivia si può avere questa speranza. Si continueranno con le stesse prescrizioni, si devono fare un altro paio di esami adesso, nel frattempo, che poi si raggiunga l'obiettivo sperato. Noi siamo certi che la funivia si riaprirà in tutta sicurezza, perché ci sono le premesse, perché le cose sono state fatte per bene. Si è mantenuto un basso profilo, ci accusa un po' la minoranza di questo, che poca trasparenza, ma non si tratta di trasparenza. Noi la trasparenza l'abbiamo con gli uffici deputati a questo. Ci vuole un profilo basso. In queste situazioni così delicate, più si fa strumentalizzazione, più si fa cacciara e meno si fa l'interesse dei dipendenti. Una stagione da salvare, visti anche i numeri che hanno caratterizzato le ultime estati sulla montagna aquilana. Per quel che riguarda i lavori da fare, si sta andando avanti molto velocemente. Noi entro metà mese dobbiamo avere tutto pronto, proprio per aprire in fretta. Sul cronoprogramma stiamo valutando i tempi, i modi, insieme soprattutto al Ministero, che ci sta dando piena fiducia e noi siamo felici di questo.